E questa è una chicca per gli amanti del film di Barbie, se preferite potete impostarlo anche di questo bel rosa chiaro abbinato al bianco che fa anche molto big bubble, devo dire. Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di Direct Drive Italia. Oggi sono qui con Nello. Ciao ragazzi. E andremo a scoprire tutte le novità del Simpro Manager 2.0. Infatti, come sicuramente saprete, Simagic ha rilasciato un core update per tutte le basi Alpha, Alpha Mini e Alpha U disponibile da qualche settimana. Prima però di addentrarci e farci spiegare da Nello esattamente cosa è cambiato, quali sono state le novità di questo software, ci tengo a fare una piccola premessa che in realtà non riguarda proprio solo Simagic, riguarda in generale qualsiasi brand che tratta prodotti tecnologici, anche i videogiochi, anche assetto corsa competizione e in generale anche il software del computer e telefono. Ovvero, quando vengono fatti dei core update, il consiglio che vi diamo è quello di attendere qualche giorno. Questo perché ci vuole sempre un attimo prima che tutte le varie piccolezze che differiscono tra un PC di un appassionato all'altro vengano sistemate. Ci siamo qui noi che facciamo questi test per voi, per verificare che tutto funzioni sempre nel migliore dei modi. Prima di scaricare selvaggiamente il software un secondo dopo che è stato rilasciato, verificate che il vostro rivenditore, ovvero noi, abbia verificato che tutto funzioni per il meglio. Questo previene situazioni dove magari il volante non vi funziona e magari avete una gara. Ma questo, ripeto ragazzi, questo discorso vale in generale per qualsiasi software prodotto SimRacing o no. Aspettate qualche giorno. Tanto se avete usato il SimProManager 1.2 per otto mesi, non vi cambia niente aspettare tre giorni che rilascino la patch del day one per risolvere tutti i problemi. Quindi ragazzi, chiusa questa comunicazione di servizio, direi di passare a ciò che veramente vi interessa, ovvero tutte le novità di questo software che sono molto succose. A questo proposito, lascerei la parola a Nello. Sorpresa! Non c'è più Dario, ci sono io. Ciao ragazzi. Vi faccio vedere quelle che Dario ci ha anticipato, essere le novità di questo nuovo SimProManager 2.0. Prima di tutto potete vedere come l'interfaccia sia cambiata, decisamente più pulita, io la trovo anche più elegante, ma questa è chiaramente una cosa soggettiva. e presenta già la possibilità di avviare i vostri giochi preferiti qui in alto, qui ci sono varie scorciatoie per accedere alle parti del software dove potete fare delle regolazioni, alcune regolazioni rapide. Diciamo che è stato privilegiato molto il plug and play, prendere un'esperienza, l'esperienza di gioco molto più veloce e intuitiva. Però chiaramente, come abbiamo sempre visto, nella schermata delle opzioni c'è pane per tutti i tipi di SimRacer, dai più novizi ai più esperti. Quindi adesso non staremo a far vedere nel singolo dettaglio come va a cambiare l'esperienza ogni singola voce, magari faremo un video più approfondito su quello, anche se in realtà uno lo abbiamo già. Quindi non è che ci sarebbe molto altro da dire, però qualche piccolezza può valere la pena evidenziarla. La schermata fondamentalmente permette di fare le stesse cose che c'erano già nella 1.3, quindi impostare il centro del volante, cambiare gli angoli di sterzo, tutte le varie impostazioni di forza, fluidità, velocità, gli effetti qui per quanto riguarda la parte meccanica del volante. Ma il focus che hanno avuto i ragazzi di Simagic per questa release è sicuramente nella parte dei setting, o chiamiamoli profili. Quindi di fatti c'è questa tendina qui in basso dove sarà possibile sia selezionare i preset creati dall'utente, ma anche dei preset che mette già a disposizione Simagic. Noi, come potete intuire qui dal fatto che ci sono tutti questi preset con scritto Arc Team, ne abbiamo già creati alcuni che stanno venendo caricati proprio adesso nell'area riservata, quindi se avete già scaricato il SimPro 2.0 andate a controllarli perché sicuramente vale la pena testarli rispetto a quelli di default. Ma cosa interessante, che non è ancora disponibile ma speriamolo sarà presto, sarà possibile scaricare dei preset dal cloud, quindi dai vostri amici, conoscenti o anche semplicemente dei profili che magari possono riscuotere una certa notorietà online per la loro validità. Ma non finisce qui, perché oltre a questo Simagic ha chiaramente pensato anche a quegli utenti che preferiscono fare delle regolazioni di fino per ogni singola auto che vanno a guidare. Un utente del genere chiaramente avrebbe questa lista estremamente lunga, quindi cosa hanno fatto? Hanno detto, ma se noi introduciamo la possibilità di classificare questi filtri sicuramente renderemo la vita più facile a quel tipo di utente. Difatti qui ad esempio abbiamo creato un tag test giusto per farvi vedere la differenza, così questa è la lista completa senza alcun tipo di tag applicato. Se io qui vado a schiacciare sul test, nel momento in cui vado a riaprire questa lista vedete che c'è semplicemente questo preset qui che presenta il tag test. Quindi se per esempio siete degli utenti che guidano tante auto GT3 diverse, ma avete comunque anche, non so, tanti profili formula, prototipi e quant'altro, ma quel giorno volete guidare solo GT3, perché se andate a taggare i profili delle auto che preferite con il tag GT3 vi compariranno solo quelli. È una piccola cosa, ma è decisamente molto comoda. Sarà possibile poi anche, appunto come accennavo, condividere questi profili. È una funzione, come vi ho già detto, che andrà implementata, ma ci sarà tutto un sistema di scambio profili online. Dopo aver visto questa nuova feature introdotta per quanto riguarda i profili, chiaramente c'è un'altra cosa che non è un dettaglio, ma fa parte proprio del core dell'esperienza, che sono proprio i filtri. Vi ho anticipato che le voci fondamentalmente sono le stesse di prima, ma Simagic chiaramente non è che rilascia un nuovo software senza fare degli aggiornamenti. Infatti loro questi definiscono i loro filtri di quarta generazione e per un motivo molto buono, nel senso che li abbiamo provati, la differenza si sente, è sicuramente uno step in avanti, ma questo poi lo lasceremo dire anche a voi, nel senso li proverete e vi rendrete conto della differenza rispetto a prima. Le voci fondamentalmente, vi dicevo, sono più o meno le stesse, quindi non staremo adesso ad approfondire. C'è stato un focus su due titoli in particolare, ossia iRacing e Forza, la serie di Forza Motorsport. Per quanto riguarda iRacing, abbiamo già visto in precedenza l'esistenza di questo filtro dell'interpolation level. Il suo funzionamento non cambia, quindi andrà a migliorare l'esperienza del force feedback rispetto a quello di default, per renderlo più dettagliato e definito. E per quanto riguarda Forza, invece, c'è una migliore compatibilità di default e quindi non si dovrà più stare dietro a switch, non switch, problemi di riconoscimento del volante e quant'altro. Sarà tutto gestito in maniera automatica. Noi qui adesso ci siamo focalizzati un attimo sulla parte della base, ma chiaramente sempre da questa schermata sarà possibile andare a modificare anche quanto riguarda la pedaliera, volante, altre periferiche C-Magic, ogni sezione ha le sue caratteristiche peculiari. Qui, ad esempio, siamo con una P1000, potete vedere che qui in alto c'è la possibilità di modificare quello che riguarda il feedback dei motorini e le luci nel caso in cui abbiate acquistato anche le barre luminose che si possono aggiungere alla pedaliera. Chiaramente si può fare la calibrazione e tante altre cose interessanti e utili soprattutto. Una cosa carina che è stata implementata per quanto riguarda i volanti, invece, c'è la possibilità di dare un nome ai bottoni. Mettiamo caso, per esempio, che questo pulsante qui lo usiate per il pit limiter, in tutti i simulatori, ad esempio, e quindi volete tenere nota di questa cosa. È possibile, cliccando sull'icona del pulsante, andare ad aprire questa schermata dove in questo campo si potrà assegnare un nome di massimo 15 caratteri a questo pulsante. In questo caso parlavamo del pit limiter, quindi se per esempio lo chiamo pit limiter, nel momento in cui vado a schiacciare, vedete che qui mi compare pit limiter al posto di B4, mi pare che fosse. È una cosa carina che serve a farsi uno schema mentale di quelle che sono le funzioni che si vuole assegnare al volante e, chiaramente, personalizzabile in base alle vostre esigenze. Come anche per le versioni precedenti del sim pro è sempre possibile cambiare il colore del pulsante, è possibile andare a modificare eventualmente il tipo di telemetria che gli si vuole abbinare. Quindi, in questo caso abbiamo parlato di pit limiter, è possibile assegnare la funzione pit e questo pulsante adesso lampeggerà nel momento in cui saremo i box con il pit limiter attivato. Come anche per la base, anche qui è possibile impostare dei tag per i vari settaggi che si possono dare al volante perché, chiaramente, questa personalizzazione non è estemporanea, la si può salvare e come per le basi avere tutta una serie di profili da poter richiamare in base a quello che andrete a fare poi in pista. Per quanto riguarda la schermata device, più o meno abbiamo visto a grandi linee tutte le varie novità. Il programma presenta sempre la possibilità di andare a avviare i giochi direttamente dal programma. Sarà possibile assegnare per ogni gioco un profilo della base, un profilo del volante e un profilo dei pedali. Al momento, come potete vedere, c'è una scritta coming soon e questa opzione non è ancora disponibile, però sicuramente lo sarà molto presto perché è qualcosa che era già presente nella versione precedente e sta venendo ottimizzata per garantire un funzionamento ottimale anche su questa nuova versione. Oltre a questo, Simagic fornisce anche una breve guida su come andare poi a impostare le periferiche all'interno dei giochi, quindi come assegnare i comandi e che tipo di impostazioni andare a impostare secondo loro, ma anche queste ve le forniamo noi sempre all'interno dell'area riservata, quindi nel momento in cui andrete a cercare i nostri settaggi ci saranno sia i settaggi da caricare nel software sia le foto di quelle che sono le impostazioni che suggeriamo. E un'altra schermata sempre qui all'interno dei games è quella che vi fa vedere cos'è che funziona e cosa non funziona per quanto riguarda la telemetria, quindi i valori che possono essere mostrati ad esempio con l'illuminazione dei pulsanti o nel caso in cui abbiate ad esempio un FX Pro sullo schermo, quello che riguarda la marcia, giri motore, tutte queste cose qui che vedete elencate. Ogni gioco chiaramente ha le sue caratteristiche, le sue possibilità e la schermata più o meno è come la conosciamo dalla scorsa versione del Simpro Manager. Ultima è la schermata del settings dove si può andare a fare un minimo di personalizzazione dell'interfaccia. Al momento le lingue sono soltanto due, inglese e cinese, non sappiamo se ci saranno aggiornamenti, speriamo di sì. È possibile anche andare a modificare il colore dell'interfaccia. Simagic ci mette a disposizione un po' di possibilità, quindi se avete un colore preferito, magari una postazione con un certo tema e volete riportarlo anche all'interno del software, potete farlo con varie opzioni. E questa è una chicca per gli amanti del film di Barbie, se preferite potete impostarlo anche di questo bel rosa chiaro abbinato al bianco che fa anche molto big bubble, devo dire. Oltre a questo ci sono delle opzioni molto rapide, quindi se siete il genere di SimRacer che tende a minimizzare il software quando guida e lo fate tramite la X, con questa opzione non si chiuderà il software ma verrà minimizzato, in questo caso invece si chiuderà, quindi lasciamo l'impostazione così come era di default, è possibile fare in modo che il software si avvi insieme a Windows ed è possibile anche che il software faccia un check automatico per update per quanto riguarda il firmware del volante, il firmware della base o anche aggiornamenti proprio del software stesso. Infatti c'è qui una sezione update dove sarà possibile fare anche un check manuale. In questo momento siamo aggiornati, perciò siamo a posto. Qualunque sia il risultato, aspettate la nostra conferma prima di cliccare aggiorna, come abbiamo detto all'inizio. Esatto, questa cosa va sempre ribadita. Ora io il film di Barbie non l'ho visto, quindi torno su Extreme Black e direi che per quanto riguarda il nuovo Simpro Manager abbiamo visto più o meno tutto. Se c'è qualche cosa che volete vedere più nello specifico magari fatecelo sapere con un commento, andremo a fare magari qualche video un po' più nel dettaglio su alcune funzioni. Ricordatevi di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, se l'avete trovato utile e fateci sapere cosa ne pensate di questo software. Per noi è sicuramente una boccata d'aria fresca molto molto piacevole. Fateci sapere se l'avete provato, come vi siete trovati. Come vi anticipavo prima per noi è stata una bella esperienza, un bel upgrade e siamo curiosi di sapere anche la vostra. Detto questo direi che possiamo salutarci e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!